A partire dal 5 settembre al via i test per l'accesso ai corsi di laurea, numero chiuso a livello nazionale, anche in Sicilia si inizierà con medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria. Le prove si svolgeranno al Polo Papardo di Messina. Nello stesso plesso, il 6 settembre, i test per medicina veterinaria. Tra le altre procedure di ammissione per le facoltà, numero chiuso, il 13 settembre, quelle inerente ai corsi per le professioni sanitarie, come fisioterapia, ostetricia, logopedia e così via, che si terranno al Polo Annunziata e al Polo Papardo. Nel frattempo, il MIURA ha ufficialmente confermato i posti assegnati per l'anno accademico 2017-2018 a ciascun corso dell'Università degli Studi di Messina, in cui è previsto l'accesso programmato a livello nazionale. Per medicina e chirurgia, il numero dei posti definitivamente attribuiti è pari a 168 per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e 10 per i candidati extracomunitari residenti all'estero. 22 posti attribuiti ad ontogliatria e protesi dentaria disponibili e 7 riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero. Per il corso di laurea in medicina veterinaria, il numero dei posti ufficialmente attribuiti è di 35 disponibili e di 5 posti per candidati non comunitari e non residenti in Italia. Infine, per i corsi per le professioni sanitarie invece, sono 475 i posti disponibili, a cui si aggiungono 42 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero.